La differenza tra Conte e Draghi è principalmente nei vaccini dal punto di vista scientifico, cioè Draghi ha potuto contare sull'uso dei vaccini. Su Arcuri e Figliuolo devo dire che la logistica la sappiano fare bene i militari, non c'è dubbio, per cui l'organizzazione, il cambio di passo si è visto. La campagna di vaccinazione sta andando bene, noi non dobbiamo tenere presente questi numeri che vengono dati, 500 mila dosi, un milione di dosi, al giorno. Noi dobbiamo tenere presente se le dosi che riceviamo vengono utilizzate. Oggi sappiamo che c'è un ampio utilizzo, nel senso che tra l'80 e il 90% delle dosi che noi riceviamo vengono immediatamente utilizzate. Questo significa che la campagna sta funzionando bene. L'immunità non è ancora un'immunità di greggia, non sappiamo neanche se avremo mai un'immunità di greggia, però quando avremo messo in sicurezza tutte le persone dai 50 anni in su, saremo sereni.